Buonasera amici di Toscana TV, benvenuti all'appuntamento di ogni lunedì sera con Casa Viola. E' tempo ancora una volta, ormai lo facciamo da otto partite a questa parte, di festeggiare un successo della Fiorentina. Striscia positiva doveva essere, striscia positiva è stata nel momento clou della stagione. Abbiamo raddrizzato le cose in campionato, Fiorentina che da domani entra nel mood tutto per tutto per la semifinale di Coppa Italia con la Cremonese. La settimana prossima ovviamente ci cimentiamo anche con i quarti di finale di Conference ma la risposta ormai sulla continuità oltre che sulla qualità di questa squadra è arrivata e come e all'appello mancava un ultimo grande squillo dopo quello tra le mura dello Stadio Franchi e i suoi tifosi sabato scorso, anzi due settimane fa scusate contro il Milan. E' arrivato ovviamente quello di sabato in trasferta a Milano, uno scalpo illustre come quello dell'Inter di Simone Inzaghi. Insomma tutto a gonfie vele ma ci sono anche molte situazioni da decifrare su quello che comunque l'italiano ha detto sul suo futuro, sul modo in cui abbiamo visto giocare sabato la squadra, su quello che si può evolvere nelle prossime ore sulla questione stadio che evidentemente ormai da qualche settimana ci accompagna. Insomma tanti aspetti, tanti temi da toccare nella nostra serata insieme rigorosamente in diretta e con il nostro studio. A cominciare da Nicola Pozzi, ciao Nicola buonasera e bentornato. Ciao buonasera a tutti. Abbiamo ricomposto la coppia, trequartista e centravanti, Massimo Orlando, ciao Massimo. Buonasera a tutti. Fabio Giorgetti fa il centravanti di riserva ma ha detto che gli va bene. Ci può stare. Luca Frati invece per dirigere le operazioni, ciao Luca bentrovato. Ciao buonasera a tutti. E grazie di nuovo per essere con noi, soprattutto è una serata in cui il campionato di Serie A non era ancora finito, sono in campo da 35 minuti, Sassuolo e Torino come potete leggere. E' appena finita invece ad Empoli, tra Empoli e Lecce. Come? Lo chiediamo al nostro Gianmarco Luccherini che è al Castellani. Ciao Gianmarco, bentrovato. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Sì, è finita proprio in questo momento al Carlo Castellani di Empoli, con l'Empoli che ritrova la vittoria dopo diversi mesi. Ricordiamo che l'ultima vittoria degli azzurri risaliva addirittura al 23 gennaio scorso proprio a Milano contro l'Inter. In quell'occasione decise Baldanzi, oggi decide Caputo e quindi l'Empoli ipoteca a questo punto la salvezza. Le cose si mettono un po' meno bene per il Lecce che invece con questa sconfitta di stasera in anella ha la sua quinta sconfitta consecutiva. Siamo qui poi per gli ospiti che prenderemo all'uscita dello stadio. Andrea, quando vuoi. Esatto, siamo pronti a darti la linea quando avrai i primi interlocutori, soprattutto anche un po' di polso della tifosina del Castellani, perché a proposito del tema stadio è uno degli impianti possibili come destinazione Viola. Sentiremo come la vivono i tifosi dell'Empoli di ritrovarsi eventualmente alla Fiorentina a giocare nel loro impianto. Prima però, giro di pareri, comincia da Massimo Orlando. Abbiamo visto non forse la migliore partita della Fiorentina, ma la dimostrazione che qualcosa è cambiato in tutto e per tutto nel vincere questo tipo di gara sabato a Milano 1-0? Sì, sì, assolutamente. Non la miglior Fiorentina, perché giocavi contro una grande squadra come l'Inter, anche se in difficoltà. Io le ultime cinque partite dell'Inter tra campionato e Coppa le ho commentate, è un Inter effettivamente in grande difficoltà di gioco, di identità proprio di squadra. Però la cosa bella è che la Fiorentina ormai va e impone il suo gioco dappertutto, sia che giochi in casa che giochi fuori. Dunque bisogna fare i complimenti ai ragazzi e all'italiano perché poi dopo Nicola ce lo spiegherà anche bene. Ci sono state anche alcune cose tattiche molto interessanti che giustamente spiegherà Nicola che è molto preparato. Un cambio epocale. Esatto, è un cambio epocale, però è meglio sentirlo dire da te e davvero complimenti perché prima questa Fiorentina non le avrebbe mai vinte queste partite. È chiaro che ci vuole un pizzico anche di fortuna, però il dato importante secondo me è che la partita l'hai fatta a te, non l'ha fatta l'Inter. Il cambio epocale ovviamente è riferimento anche allo stralcio di difesa a tre che poi analizzeremo anche con la nostra lavagna. Prima di chiedervi un commento, Fabio Giorgetti, Luca Fratti e Nicola Pozzi, ci chiedono la linea da Empoli, visto che siamo assolutamente in tempo reale, approfittiamo del nostro Gianmarco Luccherini per sentire un po' di polso del pubblico azzurro dopo la vittoria su Lecce che tra l'altro forse archivia anche in positivo il traguardo salvezza. Nel frattempo ha segnato anche il Sassuolo, gol di Pinamonti, 1-0 Sassuolo-Torino. Gianmarco. Sì Andrea, appena finita, stiamo seguendo il deflusso dei tifosi, tifosi anche molto particolari, in questo caso anche, from where? From Norway, from Oslo. So, from Norway to support Empoli. To support Empoli, that's why we came here and we were very happy to see Empoli win today. Did you like the match today? We liked it a lot. Thank you so much, thank you so much. Qualcun altro invece che vuole dire due parole sull'Empoli che ritrova, ricordiamo, Andrea, la vittoria dopo tre mesi. Più vicini della Scandinavia magari. Tre punti d'oro che ci servono per salvarci definitivamente. Salvezza ipotecata a questo punto? Prego? Salvezza ipotecata? Penso proprio di sì, dai. Poi gli avversari non sono niente di che. Sullo stadio ci avete ripensato? La Fiorentina al Castellani, no? Non ci ho mai pensato perché di fu più la Juve, per cui non me ne frega niente. Ok, perfetto, abbiamo beccato anche di vederci. Ovviamente anche il tema, oltre alla vittoria di oggi, importantissima in chiave salvezza, ricordiamo con l'Empoli che va a ipotecare la salvezza. Senz'altro sicuramente. Sull'ipotesi Fiorentina al Castellani come la vedete voi? Non è plausibile. Non è plausibile, dicono, ipotesi, Fiorentina al Castellani, Andrea. Sembra già un assaggio eloquente, Gianmarco. Vedi, vedi, ragazzi. Non so se c'è qualcuno anche più vicino della Scandinavia nel frattempo che esce dallo stadio Castellani. Volevo chiedere infatti al nostro Luca Frati, che ne ha viste tante, non so, tifosi dell'Empoli della Norvegia, non credo, o hai memoria di qualcosa del genere? Vabbè, magari era di passaggio per le feste, anche per le feste pasquali in Toscana e si è andata per la parte. No, no, mi sembra abbastanza evidente che a Empoli non è che sarebbero tanto felici di ospitare la Fiorentina, ma d'altra parte c'è la verità, i rapporti fra le due città, fra le tifoserie non sono proprio di grande amore. Tu che a Empoli ci hai giocato, Nicola ci aveva avvisato, insomma, non sarebbe semplicissimo tenere la Fiorentina a Castellani? No, chiaramente io penso non siano contenti, penso entrambi, però la soluzione che andrà trovata, quello che dicevamo settimana scorsa, la più vicina possibile, comunque alla fine sarà la soluzione da cercare, secondo me, al di là di queste varie situazioni di campanellismo. Per me è determinante che sia uno stadio raggiungibile, veramente non in due ore. Per fare la trasferta per giocare in casa. Comunque è uno stadio di Serie A, comunque si deve giocare la Serie A, quindi voglio dire... Che comunque non ti permetterebbe di giocare all'Europa? Cioè, omologato per la Serie A ma non per l'Europa, giusto? Esatto, esatto. Quindi comunque dovresti cercare, come ci auguriamo, se sarà ancora Europa a vario titolo, ecco poi un'altra soluzione per le partite UEFA. Mentre vedete il deflusso degli tifosi del Castellani uscire dopo la vittoria dell'Empoli sul Lecce, con il nostro Gianmarco Luccherini a monitorare il traffico, oltre che probabilmente a trovare anche i tifosi più improbabili in trasferta al Castellani, e restando su Fiorentina Inter, ci ha detto la sua Massimo Orlando, poi parleremo della difesa a tre, ma appunto Nicola, che cosa metti in cima alla lista della vittoria di sabato? No, questa è una parola che porta tante riflessioni, poi andremo a analizzare dopo, sarà interessante capire anche in funzione di quello che è successo, un cambio, io ho definito epocale per l'italiano, al minuto 76 dopo lo andiamo a analizzare, che cosa è successo, però è una soluzione, tante volte abbiamo detto, quando vinci la partita e nella partita di sabato a San Siro bisogna essere chiari, la Fiorentina ha fatto un'ottima partita, ma bisogna essere tutta di duelli, dove due duelli ne ha persi tanti, e chiaramente le 5-6 occasioni, le 7, succede una volta ogni 5 anni che vai a San Siro e con così tante occasioni andandoti a giocare i duelli, che ti gira sempre bene in tutto e per tutto. Detto questo non toglie nulla alla partita importante che ha fatto la Fiorentina, però il punto nuovo è che quando è andato in vantaggio, sicuramente forse anche un po' dopo, perché Danfris ha avuto l'occasione da un metro, l'ha avuto da Lukaku, quindi dopo continue occasioni si passa al passaggio epocale che per l'italiano l'abbiamo definito così, passato a 5, si è abbassato un pochettino, non è andato più uomo con uomo, e l'ultimo quarto d'ora, più tanti minuti di recupero, quindi gli ultimi 20-25 minuti compreso il recupero, l'Inter non ha creato più niente, si è rimasto più basso, è quello che abbiamo, quante volte l'ho detto, e probabilmente tanti tifosi della Fiorentina, io ci parlo, vivo la città, ho tanti amici, dobbiamo sempre rassicurare i tuoi vicini di casa, i miei vicini di casa, gli altri miei amici, che però loro soffrono, e tante volte parlando con loro, perché poi alla fine i tifosi vanno allo stadio, capisco il ricaccio, alcuni anche più di noi, sicuramente, e sul 2-0, sul 1-0, sul 3-3 dell'andata, in casa con l'Inter, è successa la stessa cosa, e quindi dice, tante volte abbiamo detto, sul 2-0, sul 1-0, si può anche stare lì, si può anche avere un atteggiamento diverso, non andare sempre uomo su uomo su riferimenti, perché, e questo sarà un tema, se trovi l'Inter in finale, esempio di Coppa Italia, che ci può stare, questo sarà un tema, l'analizzare, bene la partita spregiudicato, con i tuoi principi, con i tuoi valori, però devi anche, devi insegnare la partita di sabato, perché a partita di sabato dice che ci sono 6-7 occasioni clamorose, importanti dell'Inter, e io ve lo posso garantire, avendo giocato 15 anni, 10-15 anni di Serie A, ti succede una volta, ogni 5-6 anni, quel tipo di errori, no, che su quel numero di volume, di occasioni, che ti fa una squadra a San Siro, che sia almeno l'Inter, che non venga fatto un gol, quindi, bene tutto, ora è cambiato anche il vento, un pizzico di fortuna, e questo lascia, anche probabilmente, un'esperienza importante, che se verrà sfruttata, ed eventualmente, tutti si augurano che si possa andare a Fiorentina in finale, potrebbe ritornare utile, perché quando la Fiorentina si è abbassata, si è messa a 5, ha messo dentro Ranieri, l'Inter non aveva più dielli, non aveva più la profondità da attaccare, mentre fino al momento prima, ogni volta che saltava il duello, l'Inter ha avuto 5-6-7, a mio avviso, occasioni importanti. Comunque, controllato negli highlights di Serie A, non ci sono errori come quello di Lukaku e di Coné, né di Massimo Orlando, né di Pozzi, potete confermare, sentitemi se siete dotati di immagini a supporto. Abbiamo rivisto, sabato, o meglio, recuperato Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Sport del Comune di Firenze, un po' di quel credito che la gara di andata con l'Inter ci doveva, per come era andata quella sconfitta? Sicuramente sì, quel 4-3 brucia ancora, sabato abbiamo fatto un primo tempo, siamo andati in difficoltà, oggettivamente, sull'esterno destro, siamo andati in difficoltà sulla faccia destra, però abbiamo tenuto, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, è chiaro che la sorte cambia, perché comunque vada la Fiorentina in una striscia positiva, abbiamo fatto gol nel momento perfetto e come diceva Nicola prima abbiamo cambiato e abbiamo addormentato, tra virgolette, la partita in un modo veramente efficace. È una striscia così positiva, io non me la ricordavo, oggettivamente giochiamo bene, poi il sintomo è che vinci anche quando non giochi bene, perché le squadre diventano vincenti, quando hanno anche... Questa è una vittoria un po' diversa dalle ultime. Eh, però quando cominci a vincere queste partite comincia a essere, come dire, il futuro lo puoi guardare un ottimismo e ora ci misuriamo subito, perché ora, come dire, è iniziato in una vittoria bellissima questo mese di aprile che ci porterà fino al 27, se non sbaglio, e sarà particolarmente intenso. Però, come dire, i sentimenti sono solo positivi, perché alla fine Cabral ha fatto una grandissima girata, devo dire, al volo e Buonaventura ha anticipato, quindi hai girato tutto bene. Bene, secondo me noi dobbiamo continuare e concentrarsi su queste partite infrasettimanali, perché secondo me una, almeno una coppa, è alla nostra portata. Maggiore uguale a uno. Vediamolo intanto il calendario, Leo, di quello che attende la Fiorentina. Luca, per intendersi, è una vittoria diversa da quella di sabato col Milan, che era l'altro grande avversario battuto ultimamente alla Fiorentina. Lì eri stato più dominante, anche se vogliamo, rispetto alla gara di San Siro. Al netto, che chiaramente giocava in casa e non in trasferta. Sì, sì, col Milan ha fatto la partita più bella, penso, della stagione, col Milan in casa. Qui è stata la vittoria della personalità, della sicurezza nei propri mezzi, ha ragione Nicola, poi c'è stata negli ultimi minuti questa difesa allargata. Io direi, difesa allargata, direi che è anche interessante Castrovilli, no? Castrovilli ha fatto una grandissima partita, forse in un ruolo anche leggermente, diciamo, diverso, da quello che è il suo ruolo in cui lo conoscevamo, un po' più, un po' più, diciamo, una specie di mediano, no? Di mediano, una specie di supporto a Mandragora, insomma. Italiano, devo dire, in questa fase della stagione dimostra di essere bravo, ma quello lo sapevamo già, ma anche l'utile, anche insomma aperto a nuove soluzioni e questo è un altro elemento. Quando uno cambia e dimostra sempre di essere intelligente, no? La frase era solo gli sciocchi non cambiano mai. Esatto, esatto. Guarda, scusa se ti interrompo Luca, perché ci chiede la linea Gianmarco Luccherini da Empoli allo stadio Castellani. Empoli batte Lecce 1-0, ma c'è una vecchia conoscenza per i tifosi della Fiorentina, anche se purtroppo per lui oggi non è un buon pomeriggio, una buona serata. Vai Gianmarco. Non è una buonissima serata per il dottor Sandro Bencucci, ex amministratore delegato della Fiorentina, attualmente amministratore delegato di Lecce, che salutiamo. Buonasera dottore, non una bellissima serata, la quinta sconfitta consecutiva per il Lecce, però dietro di voi non corrono propriamente. No, in effetti non è una bellissima serata, le cose non stanno andando per il verso giusto, grazie al cielo anche chi sta dietro a noi ha perso, a parte lo Spezia, la Salernitana e poi ora l'Empoli che un po' ci ha distaccato. Però insomma, dobbiamo essere fiduciosi, cercare di andare avanti, affrontare partita per partita e comunque vada i punti di stacco dalla terz'ultima, non sono pochi, bisogna tenerli con tutti i denti. La sensazione è per tornare in provincia di Firenze, dove lei ha passato gli anni bellissimi, quali sono le sensazioni? Beh, è sempre bello perché poi ritrovi tantissimi amici, perché non solo a Firenze ma anche a Empoli ci sono tantissimi amici, per cui è sensazione sempre bella. Certo, se poi sarebbe meglio se riuscissi ad andare via con qualche punto, ultimamente se a Firenze e a Empoli non è andata benissimo. Non è andata benissimo, insomma vabbè. Però settimana prossima avete l'ardo compito di riaprire il campionato con il Napoli al Via del Mare. E' appunto una partita facile, specialmente dopo la sconfitta facile, ovviamente fra virgolette, dopo la sconfitta che hanno avuto con il Milan e dopo le giuste dichiarazioni spallettiche, finché c'è un punto che, insomma, finché non è fatta non possono esultare e naturalmente non sarà facile. Certo che noi la salvezza forse ce la dobbiamo costruire al Via del Mare. Andrea, se avete qualche domanda da studio per il dottor Mencucci? Sì, al volo volevo chiedere una sensazione da addetto ai lavori, in questo senso sulla Fiorentina, che chiaramente ha voltato che effetto fa, ecco, averla vista decollare così nell'ultimo mese e mezzo, lui che conosce l'ambiente, c'era anche un po' di quei mogugni che anche lui era abituato a conoscere ai tempi della loro gestione della valle. Chiedono da studio le sensazioni, lei che conosce benissimo l'ambiente viola, dopo un periodo un po' così e così, vedere la Fiorentina decollare nel giro di così poche settimane, le sensazioni? Beh, in effetti, se guardate i punti fatti nel girone di ritorno, sono tantissimi, per cui forse c'è un po' di rammarico averli persi un po' nel girone di andata, però attualmente è in corsa, in corsissima direi, per la Coppa Italia, e in corsa per la Conference League, comunque in campionato ancora ha qualcosa a dire, credo che i tifosi viola non possano lamentarsi. Guarda, abbiamo al volo un'altra volta. Andrea! Sì, al volo, anche perché è il nostro studio con Fabio Giorgetti, per tornare con Sandro Mencucci. perché è un piacere rivederlo ai vertici del calcio italiano e ricordare il grande lavoro che ha fatto con la Fiorentina e con la Fiorentina femminile, con cui ha vinto e che io ho avuto la fortuna di seguire per tanti anni. È un pezzo di fiorentinità che è andato via e che giustamente per la competenza e la capacità è tornato ai vertici del calcio italiano. La saluta a Fabio Giorgetti, felicitandosi del fatto che è tornato a grandi livelli del calcio italiano e ricordando anche la sua esperienza nel calcio femminile nella Fiorentina. Sì, è stata una bellissima esperienza che ha portato anche dei risultati. Poi sono felice di vedere che comunque anche il settore femminile, da quando l'abbiamo iniziato noi, è cresciuto tanto, ci sono delle leggi nuove, per cui è bello così. Lasciamo andare il dottore che... Sì, al volo, solo se... chiedigli già Marco se sarà più difficile... Troppo non delle migliori. Solo se sarà più difficile trattenere Strefezza o Yulman, che sono due dei gioielli lanciati da Lecce di quest'anno. Non vale dire ci penserà Corvino. È più difficile trattenere Strefezza o Yulman? E' un... intanto vediamo di risalvarsi, questa è la cosa più importante. Poi vedremo. Doroteo e il dottor Mencucci, grazie mille Sandro. Grazie a voi, grazie a tutti. Andrea, subito abbiamo, senza soluzione di continuità, se vuoi, abbiamo anche Luca Lotti, l'altra faccia della medaglia, sorridente di stasera, Luca. Buonasera a tutti. Buonasera. È andata bene, dai. La vittoria che mancava dal 23 gennaio scorso, quindi insomma, salvezza ipotecata, possiamo dirlo? Assolutamente no, perché fino a che non si fanno i punti non si dice, però oggi era una partita importante e l'Empoli ha fatto la sua parte, quindi siamo molto soddisfatti. Vogliamo ricordare cosa è successo, perché ricordiamo Andrea, la partita è iniziata con un'ora di ritardo, per quale motivo? A causa di un principio di incendio, nulla di grave, però ecco Luca, lei che l'ha vissuto da dentro, cosa è successo in quell'ora concitata, non si sapeva se si sarebbe giocato, con che orario? No, c'è stato un cortocircuito, un problema interno probabilmente dovuto a un mozzicone, però su questo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che colgo l'occasione per ringraziare per la loro presenza e attività importantissima. Il ritardo è stato dovuto appunto alla sistemazione dei locali, del corridoio e dello spolatoio dell'Empoli, che aveva appunto un po' di fumo, però poi con i 45 minuti di comporto e poi l'ora che la Lega ha attribuito per rimandare la partita alle 19.30, poi si è regolarmente giocato. Da studio per Luca Lotti? Sì, da consulente dell'Empoli, chiediamo anche lui se, come ha detto anche Presidente Corsi in settimana, insomma, mi sembra ci sia comunque una mano tesa dal punto di vista societario, se dovesse la Fiorentina aver bisogno del Castellani, diciamo così, per la questione stadio. Al contrario, chiedono da studio del comune di Empoli, che ha mostrato qualche resistenza da parte della società empolese? Non c'è mai stato la chiusura totale nei confronti dell'ipotesi della Fiorentina-Castellani? Ma ha già parlato il Presidente, quindi su questo non c'è molto da aggiungere. Come ricordato da lui e ricordato anche dal sindaco Barnini, è chiaro che ad oggi la discussione, qualora dovesse essere messa in campo, arriva prima all'amministrazione e poi ovviamente con la società che è concessionaria dell'impianto. Quindi se mai ci sarà questa discussione dovrà essere messa sul tavolo e poi affrontata con l'amministrazione comunale e poi successivamente e conseguentemente con la società sportiva. Andrea? Sì, l'altra sensazione, giustamente non vuol parlare ancora di salvezza, però parliamo comunque di una squadra ancora una volta, l'Empoli ha fatto vedere ottime cose, con un nuovo corso a livello di allenatori, a livello di squadra, di giocatori. Chi metterebbe, diciamo così, in copertina come volto di questa stagione dell'Empoli, che insomma, vi eleggia verso un altro mantenimento della categoria? Chi sceglierebbe come uomo della stagione? Facendo gli scongiuri per un Empoli che sta arrivando in porto, sebbene dopo qualche mese un po' difficile, forse vi siete un po' rilassati, chi mettereste voi in copertina in questa stagione dell'Empoli che state portando in porto alla grande, possiamo dire, l'ennesima stagione positiva dell'Empoli? Ma ripeto, gli scongiuri si fanno sempre, ma non per scaramanzia, ma perché il risultato si commenta quando è acquisito. Per il resto, io sono arrivato un po' in corsa, però ho trovato una squadra, un gruppo di persone che in società lavorano, una squadra di ragazzi che sul campo ce la mette tutta, lo dimostra e quindi io in copertina metterei veramente tutta la squadra, perché alla fine non sono parole di circostanza, ma è quello che si vede sul campo, i momenti difficili vengono a tutti, possono capitare a tutti, venivamo da un momento oggettivamente difficile, oggi la squadra, i ragazzi, il mister e tutti hanno risposto bene sul campo come si fa in questo fantastico sport. Se non ci sono altre domande da studio, lasciamo che Luca Lotti vada a prendersi una meritata pizza distensiva. A posto, a posto, grazie davvero Gianmarco e soprattutto all'ex ministro Lotti, oggi consulente per l'Empoli. Buon lavoro e a presto. Grazie, grazie a Gianmarco Lucarini e ai suoi ospiti. State lì, ci fermiamo un attimo, torniamo al volo ovviamente su quello che è successo in Fiorentina-Inter con tutte le altre sfumature, le altre reazioni che arriveranno dal Castellani all'intervallo, come potete leggere invece, l'ultima sfida di serata. Sassuolo 1-1 Torino 0-0, gol di Pinamonti, tra poco. Siamo nati per difendere il potere di acquisto di ognuno, con prodotti di qualità per tutti. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop, perché la vostra storia è anche la nostra. La Coop sei tu. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. Post, mobile post, post virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima. Dovrei mettere la pettorina a quattro cani in un minuto 52,98. Come il mio record. Via. Cobra, vieni. Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus. E la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus a 50 più con Actifull e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Ancora? L'azienda agricola Le Pescine alleva galline e produce uova fresche da oltre 30 anni. Uova prodotte da allevamento a terra, all'aperto, per avere la bontà in tavola ogni giorno. Nello splendido territorio di Poppi, azienda agricola Le Pescine, l'uovo del Casentino. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose, alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma, tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13.00. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Rieccoci allora con la seconda parte di Casa Viola, appuntamento di ogni lunedì sulle frequenze di Toscana TV, canale 11, per seguirci rigorosamente in diretta dal venerdì al lunedì, con tutti gli appuntamenti dedicati alla Fiorentina, compreso ovviamente quando è in campo. Siamo reduci allora da un grande sabato con la vittoria 1-0 sull'Inter. Siamo appena stati ad Empoli, dove l'Empoli batte 1-0 in Lecce con il rigore di Caputo. Abbiamo sentito anche grandi interventi direttamente dal Castellani, dove oltretutto, fatto di cronaca, possiamo vedere anche al volo con le immagini, come ci hanno spiegato dalla dirigenza. E non solo, la partita è appena finita perché invece che alla 18.30 è cominciata alla 19.30 per un principio di incendio che chiaramente ha allertato i vigili del fuoco e costretto le autorità ad un intervento per sistemare la situazione. In cortocircuito avete sentito che ha originato questo problema, che poi comunque al di là di un'ora di ritardo sul fischio d'inizio ovviamente non ha avuto conseguenze, per fortuna per nessuno, come ci documentano nel dettaglio le immagini fornite dal nostro Gianmarco Luccherini e dal nostro operatore al Castellani. Torniamo alla Fiorentina, allora abbiamo detto 1-0 sabato con, come ben sapete, il gol di Bonaventura. Abbiamo dato un'infarinatura generale, andiamo un po' nel dettaglio. Cominciamo da un appuntamento che abbiamo sdoganato per il lunedì sera per scegliere proprio i protagonisti. Abbiamo voluto affidare al nostro Nicola Pozzi il compito di nominare l'MVP. Cioè, come sapete, non vogliamo, perché in questi tempi qualcuno si lamenta se si usano troppe parole inglesi, ma insomma è un'espressione mutuata anche dal basket americano, giocatore più votato o migliore in campo che dir si voglia. Quindi stasera sdoganiamo l'MVP, ti piace Fabio? Non è male. Non è male, è vero male? Grazie. Allora, vediamo chi ha scelto il nostro Nicola Pozzi per i protagonisti, diciamo, in primo piano e in relativa descrizione. Andiamo in ordine di reparto, direi, Nicola. Perché il decisivo Terracciano? Partiamo a mettere, abbiamo questa sera, abbiamo nominato questi tre. Prima partiamo da Terracciano perché ha avuto sicuramente dei momenti dove qualcuno cominciava, no? Perdere un pochettino la fiducia di lui, invece la partita di domenica Terracciano è stato decisivo. Decisivo non in parate clamorose, ma comunque puntuali ed efficaci. Perché sullo 0-0 rimane fermo sulla posizione, sulla involata, quella sulla destra interista, è rientrato dentro, ha fatto la sterzata, ha calciato, quindi Terracciano è stato bravissimo a respingerla e quindi a non andare giù prima, a mantenere la posizione. Stessa cosa che fa dopo il cross di Dumfries, diciamo, l'intervento a contrasto tra Bellanova e Dodò. Che la palla schizza improvvisamente e fa un'altra parata importante. Bell'ha testato questo Massimo, nel momento in cui ricordiamo, tra l'altro, non c'è più il secondo perché Sirgo ha finito la stagione. Sì, Sirgo ha avuto questo brutto infortunio, ma devo dire che ormai è una certezza Terracciano, è un portiere molto solido. Magari se vai a inizio stagione non ti fa mai sognare, no? Se pensi al tifoso... Sul mercato si parla sempre. Sul mercato sempre che ci sia... Allora lei ha comprato un altro portiere, infatti. Esattamente, però poi dopo, lato pratico, è un portiere che effettivamente sbaglia poco, è sempre sul pezzo e devo dire che tanti risultati quest'anno li ha salvati per la Fiorentina. Dunque, complimenti e sono d'accordo anch'io con questa scelta. Tutti d'accordo? Volete contestare qualcosa? No, assolutamente. Però ecco, oggi c'è la firma di Martinelli, il giovanissimo che sembra sia un vero fenomeno, fino al 2026 il contratto. Ce lo teniamo stretto. Quindi effettiva probabilmente anche alla luce di questo gravissimo infortunio a Sirico, al quale ovviamente auguriamo di tornare presto in piena forma, ma probabilmente per l'anno prossimo valuterà, forse devi partire un terraciano, ma c'ha questi due ragazzi giovanissimi alle spalle. Tu ci credi Fabio che faremo un'estate senza parlare del mercato del portiere? Allora... Io no. Allora, la scommessa su un 2004 di un metro e 95 è sicuramente un terzo portiere, è una scelta condivisibile. 2006, scusa, la scelta, come diceva Massimo, è chiaro, non è un portiere da figurine panini che vedi staccare sui piedi d'appoggio e sta in aria 20 secondi, però è efficace. L'anno scorso mi ricordo un errore grandissimo con il Milan, però è un portiere efficace, oggettivamente bisogna riconoscerlo che svolge il suo ruolo in un certo modo e come la squadra ha acquisito fiducia e autorevolezza, anche il portiere ne ha beneficiato, ma anche la difesa, stamattina leggevo sul giornale, siamo una difesa con dei numeri comunque alla fine di grandissimo rispetto e se vi ricordate all'inizio dell'anno, la prima parte del campionato, c'erano grossi problemi, Milenkovic era irriconoscibile, quindi è cambiato qualcosa, però la Fiorentina sta facendo sicuramente un finale di stagione straordinario. Ci tenevi particolarmente Nicola alla rinascita di Castrovilli? Sì, quindi nei tre giocatori che abbiamo voluto premiare e andare a evidenziare Castrovilli abbiamo messo Redi Vivo, nuova vita, quasi quel giocatore sta tornando il giocatore che conoscevamo piano piano, io l'ho detto, ci vuole del tempo, probabilmente al top sarà dopo la preparazione dell'anno prossimo, ma si presenta in una partita importante, nella scala del calcio, un ruolo inedito, ma già sottolineato prima molto bene, Luca, nel centrocampo a due, lui è una mezzala, l'abbiamo già tante volte sottolineato, invece domenica ha fatto bene, cioè sabato, sabato ha fatto molto bene anche in quel ruolo, a tutto campo, fase difensiva, fase offensiva, fa un grandissimo recupero su Lukaku, bene, che diciamo, inizialmente per i più attenti, quell'errore all'inizio parte, quel recupero lì parte da un piccolo errore, perché Martínez Quarta si era fatto male, era fuori, quindi lui è andato a fare il centrale, è andato a fare il centrale a fianco a Igor, e lì si è fatto sfilare un pochettino, perché non è un difensore centrale, ma comunque poi nella corsa, tenere botta su Lukaku in progressione, ed è riuscito a recuperarlo, per quanto questo Lukaku, poi se entra dentro con la palla a giro, viene giù il terzo anello dove ci sono tutti i tifosi viola, casca lo stadio, perché fa un euro goal, no, giocatore moderno, giocatore eclettico, giocatore che lo puoi far giocare in tutti i ruoli del centrocampo, veramente un jolly, può giocare davanti alla difesa, e poi infatti la Fiorentina, per fortuna, il prossimo anno non dovrà pensare a un acquisto in quel ruolo, perché tu hai ritrovato il giocatore che un anno fa, insomma, due anni fa ti aveva sballordito con le sue giocate, Ha portato anche un po' di gol, perché poi c'era il problema che infatti era tolto gli staccanti, o buonaventura, o buonaventura. A tutte le, sì, ma poi veramente al centrocampo, quando sono così bravi, quando sono così, anche con quel tipo di corsa, con quel tipo di dinamismo, li puoi far giocare dove vuoi, poi è chiaro che ci sono partite e partite, ma ieri già il fatto che l'italiano lo abbia retrocesso in quella posizione, fa capire quanto comunque si fidi di questo giocatore. Fiorentina ha ritrovato a ragione niente, ci vuole un po' di pazienza, però il prossimo anno, parlo di inizio stagione, sarà veramente fondamentale. Lui si è fatto male col Venezia in casa l'anno scorso, era un anno e mezzo che non era lui, quindi quello che si è affermato è un grande, no no, ma me la ricordo bene la descrizione del ritorno dell'infortunio di Nola, che disse ci vorrà la seconda preparazione, è che andò giù, questo ce lo ricordiamo perché ne abbiamo parlato tante volte, andò giù un anno e mezzo e non riusciva più a giocare il ragazzo. Ma è normale, guarda chi, ora, guarda chi... Prima dell'infortunio? No, no, ma sì, sì, già prima, lui ha un carattere particolare. Perché è arrivato troppo velocemente alla ribalta, dici? Sì, è arrivato, è arrivato molto velocemente, poi dopo ha avuto dei momenti, sai, non tutti hanno la stessa testa, un momento dove è uscito un po' dal progetto, è uscito un po' dall'essere protagonista e dunque ha sofferto questa cosa. È il giocatore che ha bisogno di essere coccolato, come succede in tante situazioni. L'infortunio ha aggravato la sua situazione, adesso però piano piano, con la sua forza, non perché nessuno gli abbia dato una mano, ma proprio perché è talentuoso, sta riprendendo il suo posto. E questo sarà un acquisto per il prossimo anno, che è tanta roba. Bisogna, leggevo oggi, il contratto riscade tra 15 mesi, bisogna, la Fiorentina lì si muova, si muova e allunghi, perché, insomma, Castrovilli, Mandragora, c'è Bianco, Amrabat, Bonaventura, Brecalo, Barac, cioè lì ce ne sono tanti... Qualche tratto alla Massimo Orlando, a parte il piede, salta l'uomo, corre... Lui era più attaccante, penso, no? Sì, era più in avanti. Comunque, a proposito di rinnovi di contratto... Non vuoi parlare? No, no, non c'era Ranieri, volevo solo dire questo. E tra l'altro, a proposito di centrocampisti e relativi rinnovi di contratto, che avevamo ampiamente anche caldeggiato, insomma, da queste modeste tribune, c'è quello di Bonaventura, completare questa rassegna, Nicola, che tra l'altro a San Siro con l'Inter vive sempre il suo personalissimo derby, e ieri tu hai visto, il sabato hai visto come illuminante. Beh, qui parliamo di calcio. Oh, e questo è sempre un bene. Il resto sono chiacchiere, Bonaventura e il calcio. Quindi bisogna sperare di avere una pillola per l'eterna giovinezza, questo ragazzo, perché quando regge non farà più ancora le 40, prendete quell'intensità. Io guardo il novantesimo, il ottantottesimo, chiaramente qua non possiamo avere le immagini, fa un recupero, una diagonale difensiva, quando ci sono messi i 3-5-2, segue il centrocampista, recupera Pallinaria, quindi ha tutto campo anche lui, in uno stadio dove, in quello stadio, è difficile giocare, lui ha fatto 22 gol con la maglia del Milan, e quello che vado a sottolineare non è il gol, vado a sottolineare, tutti l'hanno visto, una giocata pazzesca, quella che fa di esterno, senza guardare, mettendo in porta la palla per il 2-0 di Conè, che poi sbaglia il piattone che va a lato. Cioè, quello è una palla che sono i giocatori che hanno il calcio. Bonaventura è uno dei pochi ancora di Serie A giocatori di calcio, ha una mente pensante, una qualità, illumina il gioco. Cioè, quando accende la luce Bonaventura, potrebbe farlo non solo la Florentina, in tante altre squadre. E quella palla lì di esterno, lui sta guardando Terracciano, gli arriva la palla, d'esterno, mette in porta il Conè, che ha una grande occasione per fare il 2-0, e la spreca. No, ma poi non fa mai la cosa sbagliata, cioè, lui fa sempre la cosa giusta. E gli riesce con semplicità, proprio perché dice bene, Nicola, perché ha la qualità. E quando tu hai la qualità, ed è molto intelligente, anche da un punto di vista tattico, questo va riconosciuto, è sempre nel posto giusto, si fa vedere... Numeri alla mano, infatti, che puoi giocare più, a prescindere dal ruolo... Ma mi sembra giusto. Cioè, se non gioca è proprio perché lui va dall'allenatore e dice voglio riposare oggi, ecco, perché sennò è fondamentale. Quindi su Bonaventura, il nuovo... No, su questo sono d'accordissimo, ovviamente, solo è il problema, sono gli anni, bisogna dosarlo, ora, per esempio, boh, mercoledì... Sì, sì, ora dopo la facciamo la... No, ma dico, guardando la partita di sabato, come fa a levare Bonaventura? Devi vedere se in questi tre giorni, quattro giorni, riesce a recuperare bene. Io partirei a un Bonaventura e magari, se non ce la farò, le verei, ma... Ma, insomma, è difficile... Sì, dopo la facciamo la formazione per la Coppa Italia, anche perché, ricordo, che nei momenti più negativi che analizzammo qui della Fiorentina, era uno dei pochi che ci mise, come si suol dire, la faccia, no, Bonaventura, quando venne a dire che ci studiano, ci hanno capito, non si può giocare tutto uguale l'anno scorso... E forse l'italiano ha capito un po'. Eh, no, esatto. Però è un giocatore che ha calcato certi palcoscenici, è un giocatore di grande livello, è una persona seria, è abituato a affrontare negli spogliatori comunque momenti difficili, quindi è chiaro che è il giocatore, come diceva Nicola, di grande livello e di grande ugualità, che può davvero accendere o spengere la Fiorentina, è chiaro che nei momenti difficili si prende la responsabilità di dire ci leggono, per questo giochiamo male, dobbiamo provare comunque a stare uniti e a soffrire tutti insieme. Secondo me, alla fine, l'interruzione, poi la ripartenza, è un campionato anomalo questo, perché due mesi di stop è come giocare due campionati, quindi la Fiorentina ha trovato una quadra nella seconda parte che comunque ha tre obiettivi davanti, quindi a questo punto credo che la conduzione sia proficua, senza ombra di dubbio. E non mi stupirei, scusa, non mi stupirei tra cinque anni di vederlo come spesso i giocatori che giocano in quella zona del campo poi diventano anche grandi allettori. E proprio per la sua intelligenza, per il suo modo di stare in campo, penso che potrebbe essere un predestinato. Poi ci vuole fortuna, chiaramente, però giustamente, segnalazione da tenere di conto. State lì perché torniamo tra poco per ancora la diretta di Casa Viola, andremo nel dettaglio di quello che si è visto appunto anche nella cosa che non si era mai vista del passaggio alla difesa 3, seppur per uno stralcio di partita. Che cosa e come gestire anche una situazione come quella di Amrabat, che per motivi religiosi, per il Ramadan, ad esempio, dovrà vivere ora queste settimane con una preparazione un po' diversa dagli altri compagni di squadra, ovviamente, e quello che arriva dal resto del campionato, soprattutto da questa situazione che si è creata, insomma, con il successivo rimescolamento forse delle carte, anche dopo la vittoria del Milan contro il Napoli. Nel frattempo, secondo gol del Sassuolo, che facciamo in tempo a segnalare prima del break, l'Orientè fa 2-0 dopo Pinamonti, contro il Torino, se vogliamo, un risultato che comunque Viola fa comodo, almeno nel testa a testa con i Granata, anche se il Sassuolo è un'altra squadra lanciatissima con una striscia simile a quella proprio della formazione d'Italiano. State con noi, torniamo tra un attimo ancora con Casa Viola del lunedì. Sassuolo, Siamo nati per difendere il potere di acquisto di ognuno, con prodotti di qualità per tutti. Per questo alla Copp ci sono i prezzi pop, perché la vostra storia è anche la nostra. La Copp sei tu. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima. Potrei mettere la pettorina a quattro cani in un minuto 52,98. Come il mio record. Via. Cobra, vieni. Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50+, più connectifull e menarini. Pronta per la prossima sfida? Ancora. Porcellotti Moda Tantissima scelta per vestire come vuoi. Porcellotti Moda Terra Nuova Bracciolini Bibbiena e Arezzo Grazie a tutti. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione fornendo materiali e posa in opera. Sono in Via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Rieccoci con la diretta del lunedì di Casa Viola. Come sempre per commentare assieme quello che arriva dalla pianeta fiorentina, soprattutto dopo questa ulteriore striscia di risultati che si è andata a rimpolpare grazie all'ottava vittoria appunto sabato contro l'Inter. È ripreso Sassuolo Torino. Ce l'avevamo lasciati con il 2-0 del Sassuolo l'Oriente ma revisione VAR e fuorigioco quindi come potete leggere si rimane sull'1-0 gol di Pinamonti. Abbiamo passato in rassegna i migliori e i grandi personaggi protagonisti ecco della sfida di San Siro. L'altro dato che volevo far commentare ai nostri Nicola Pozzi Massimo Orlando Fabio Giorgetti e Luca Frati è questa frase di Vincenzo Italiano arrivata oggi nel commento a Rai Sport chiaramente sul diplomatico andante ma vi chiedo ricominciando da Massimo va sempre preso con le molle quando suona qualche campanello non posso non essere concentrato sulla mia stagione gli chiedono di una voce che lo voleva tra gli obiettivi dell'Inter su cui ormai si è scatenato un tam tam ovviamente per il dopo inzaghi la mia testa è solo sulle partite che mi aspettano e penso solamente a dare il massimo a Firenze siamo nell'ordinario ci dobbiamo preoccupare allora ecco allora io credo conoscendolo un po' che i due mesi di grande contestazione lo abbiano un po' sono un po' rimasti lì sì perché è un po' permaloso italiano grande allenatore però ha questo difettuccio e dunque credo che questa cosa gli sia rimasta dentro è chiaro che ci sono due coppe che se tu le portassi a casa anche solo una sposta un allenatore nuovo anche se l'Inter è un salto difficile impegnativo sarebbe la prima vera grande squadra impegnativo però se voglio ripartire da un allenatore bravo con delle idee insomma fossi l'Inter ci penserei Nicola? ma oggi mi spingo in due opinioni nel senso sono sicuro che i miei amici e i miei amici di Firenze avrebbero preferito ho voluto due anni di contratto o due anni di contratto punto chiuso fine del discorso parole così secondo me è certo chiaramente che non arriva in un modo che secondo me non piace questo bisogna che lo dica perché ha rinnovato no io penso e te lo dico già perché c'è tanti amici che me l'hanno detto perché chiaramente ancora un altro lago di contratto dopo questo che è appena stato rinnovato quest'estate e detto questo collegandomi al miglioramento che ha fatto la quadra che ha trovato io lo sapete sono un uomo libero non ho non devo parlare dico quello che penso chiaramente si sbaglia però una riflessione la faccio alla fine cosa che non ho mai detto sul mercato abbiamo detto che tante volte probabilmente nel giorno d'andata per caratteristiche si doveva trovare qualcosa di diverso ti avevano studiato andavi con tanti uomini metà campo avversaria un po' ti scavalcano spesso ora gli acquisti che ha fatto la società va detto va detto abbiamo visto che non erano quelli precedenti quindi una menzione quando io ho fatto sempre delle analisi di campo di calcio faccio anche una menzione un'analisi di campo di calcio dei giocatori che avendo trovato la quadra avendo trovato la continuità in questo poi è stato bravo nelle difficoltà Natore però il mercato alla fine della società forse solo Jovic diciamo è stato il giocatore che è andato sotto rendimento Cabral con i pregi e i difetti che ha e con il suo atteggiamento alla fine è un giocatore ora che si è fatto blerbene tutto quanto quindi completando questo discorso con Cabral con questo Cabral che ora è prezioso ti dà una mano con le sue caratteristiche come abbiamo analizzato anche il mercato della società e i giocatori che sono stati tenuti quindi al completo della Rosa non è stato fatto un brutto lavoro questa è una squadra che alla fine ha permesso di essere competitivo su tre competizioni e in quel periodo lì c'era qualcosa da cambiare però detto che abbiamo la nostra per te se ne può andare o no? in tutto questo in tutto questo cioè ti preoccupa di precedenti di Spezia poi sentiamo in questo in questo mi chiamo fuori non è mio compito non è mio compito se vi devo dire che se penso che resterà oggi dico probabilmente forse più no che sì dopo queste cose siamo già a due sensazioni che vanno perché 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 il calcio lo conosciamo ragazzi siamo all'Inter il calcio se ne andrà se è convinto lo manca il calcio sai no conosciamo il calcio adesso a parte gli scherzi chiaramente sono due anni di contratto queste parole lasciano un'apertura che gol lascia un'apertura non bisogna prendere in giro nel senso fare frasi mezze frasi fatte mezze frasi se arriva una squadra importante penso penso che alla fine l'italiano se arriva una chiamata importante ci penserà ma è normale in questi tempi l'anno scorso ricorderemo tutto il tanzano sulla clausola pagata da Napoli pensate si doveva si murale di reggere io penso un'altra cosa guarda che la Fiorentina vista quest'anno alla fine facendo un mini un mini sunto se va a inserire 3-4 giocatori mirati si può aprire un ciclo al di là al di là della parte tecnica che è stato fantastico sul valore della rosa che Massimo già va detto sempre ragazzi qui comunque è una squadra che il settimo posto ora ci deve dire quali 3-4 ora ci arriviamo infatti il settimo posto non ne vedo più di 5-6 superiori alla Fiorentina avete detto infatti anche nei momenti di down del rendimento quest'anno ne hai presi 3-4 quindi alla fine ne hai presi 3-4 l'anno prossimo se c'è una buona progettazione vediamo l'entusiasmo che ti può dare non ci vuole spingere un esterno sinistro la punta e un difensore il portiere avete detto i filati di Terracciano se compriamo il portiere no ecco se tu tieni più o meno l'ossatura e alla fine abbiamo visto che ha dei valori importanti comunque la Fiorentina stanno venendo fuori piano piano e ora sotto gli occhi di tutti la Fiorentina mette dentro 3-4 acquisti intelligenti importanti giusti una punta centrale sicuramente poi difensore un esterno sinistro che è importante di difesa si e già la steccata no 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 alternativa alternativa Terzic non ti piace no non è che numericamente forse ti servirà più a destra anche perché Ranieri è a svizzolo e mi rinnoverà e anche dall'altra parte i due esterni difensivi siamo pieni di mancini oggettivamente sulla difesa devo dire la verità però se riesci a fare un lavoro importante su quei profili lì su quei profili non sei cioè questo è il percorso che ha fatto piano piano l'Atalanta cioè nel senso adesso con tutte le difficoltà che sono state abbiamo analizzato però se dobbiamo ora ragionare vedere il valore della rosa qualche giocatore a qualche anno in più va bene ma se si riesce a fare degli acquisti mirati non sbagliarli che non è facile chiaramente la parola è però c'è margine comincia a diventare un'ossatura di squadra importante capitolo italiano e questa dichiarazione quello che dice Nicola Pozzi è interessante però se tu perdessi italiano devi vedere chi prendi perché c'è i 3-4 acquisti ma se chi prendi prendi dei zerbi allora forse per dire uno che è uno trattato nella lista dell'Inter appunto c'è Polite c'è Conte non lo so certamente l'italiano avrà sicuramente un buon mercato io credo che commisso se se ci dovesse essere una trattativa parallela cercherà di tenerlo perché secondo me la Fiorentina ha delle buone possibilità di concludere bene la stagione insomma perché Coppa Italia è alla finale abbastanza abbastanza probabile in conference ci possono essere delle buone speranze quindi voglio dire io penso che sarebbe un peccato perdere l'italiano Fabio? Allora sicuramente un allenatore di grande qualità che è riuscito davvero a massimizzare le qualità tecniche di questa Rosa in questi due anni credo che debba portare a casa a questo punto un risultato che secondo me è alla portata della squadra e cambierebbe la prospettiva la prospettiva e la storia se vinci appunto una Coppa Italia una Conference League e se ne va con il risultato ma sarebbe vincere ma guarda se va via e si vince una Coppa io te lo sottoscrivo però ha ragione Nicola nel dire secondo me tre interven cioè qui c'è bisogno di comprare una punta sicuramente va bene io sostengo che c'è bisogno di un centro di una pista di qualità e tra l'esterno il centro capista di qualità ti sta rientrando Castrovegni io lo vedo io parlo del regista io parlo del regista io non sono un innamorato da Amrabat e per me cerco una qualità superiore centralmente un lobot però vedi dipende anche lì come giochi un progetto tecnico ora questa squadra non era adatta a giocare con il regista probabilmente perché Amrabat non lo è se giochi a due cambia quindi anche lì dipende da come giochi bisogna vedere come finirà però io ripeto questo concetto non credo tu regga il salto qualitativo con Amrabat e Mandragolo il salto qualitativo solo che non lo regge uno va aggiunto anche perché hai dei giocatori rosa magari che puoi fare un'uscita fare un'entrata però io volevo evidenziare che alla fine dopo tante critiche in generale io alla fine penso che alla fine la società vedendo e pensando anche in un determinato momento della stagione che il rendimento non doveva essere quello infatti la quadra ora è stata trovata ha insistito alla fine la società sul mercato non ha lavorato così ma poi i risultati gli danno ragione poi è una rosa profonda c'è un unico dubbio se dovessi se comprare un esterno sinistro mi diceva Massimo o un portiere ecco avrei bisogno di pensarci un altro po' portiere titolare certo perché un salto di qualità come diceva Nicola prima lo fai da secondo me tra l'esterno sinistro e il portiere forse compro l'esterno sinistro però sull'altra analisi cioè l'anatore adesso non è il momento di parlarne no però chiaramente però a casa tanto ci guardano ci sono già fatti molte reazioni no ci guardano se no dicono si prende in giro la gente se arriva una scuola importante io ho il mio pensiero nel senso secondo me non ci dimentichiamo l'italiano si arriva a Firenze e ha firmato il giorno prima rinnovo con lo Spezia no appunto con Commisso dicevi prima Commisso sai l'ha preso ma la portavo via anche allo Spezia quindi mette in preventivo io penso che dopo questa stagione ma ne sono convinto se arriva la squadra perché fa fare un salto di qualità all'anatore scuola bene all'anatore la via e la Fiorentina secondo me lo ha già messo in preventivo lo ha già messo in preventivo ma se vince una competizione anche se non lo vinci anche se non lo vinci però c'ha ragione Luca trovarne bravi così non è mica facile no assolutamente che il problema poi diventa quello no perché se fosse vedo le dice lui vorrebbe dire che lo stanno già cercando l'allenatore no io dico un'altra cosa che dici che hanno messo in preventivo se arriva se arriva una squadra di livello alto quindi si parla cosa c'era scritto lì dell'Inter c'era scritto Inter c'è una squadra in Premier non lo so qualsiasi tipo di quale situazione che alza il livello per l'italiano secondo me l'italiano prende e va questo è il mio pensiero poi magari l'italiano dice no non vado firmo altri tre anni si fa aumentare ancora lo stipendio e basta questo io non so se succederà cioè secondo me ci sta la variante decisiva è il tipo di offerta è il tipo di offerta che arriveranno e richiede l'italiano scusa il mio non era il mio non era la Juventus e i ragazzi i due giovani sono andati a dire Luca il mio non era un'analisi o una problemia negativa era solo per dire ci preoccupiamo di niente era solo un'analisi che secondo me se a casa diciamo devo dire quello che penso se arriva una squadra importante nessuno di voi oggi scommetterebbe l'italiano e l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo io dico che si apre un problema io non so se lo chiameranno come questa valorizzata in questo modo si apre un problema perché lui l'ha plasmato e anche molto gli ha dato un gioco ai tanti esterni gli ha modificato devi giocare col tridente questi ce ne sono tanti che sono stati allenati da Iachini da Prandelli e avevano un rendimento completamente diverso poi è vero ci sono stati degli inserimenti ma io sono convinto che se dovessi dire di chi è il merito il 70% del gioco abbiamo fatto come diceva Nicola noi abbiamo ridicato perché gli allenatori i giocatori non giocavano come forse perché non l'ha messo nelle condizioni giuste Nicola quanto è entrato Cabral quanto ci ha messo Dodò ora si fece male a Empoli e poi ci ha messo Mandragola Mandragola però per dirti in questa non questa trasmissione quella domenica sera sempre qui da noi ci fu una domanda di chi era la colpa i vari ospiti io dissi dell'allenatore ma certo perché per me l'allenatore aveva una squadra che doveva giocare in questo modo poi che lui sia stato in questi due anni fantastico e che abbia trasformato la Fiorentina e che tu vai quindi la cosa è discreta secondo te ma sì assolutamente con tre giocatori tu lotti per la Champions League ecco io non sono convinto Nicola? e vi dico anche secondo me non è tre giocatori da 100 milioni diamo la classifica intanto ci rendiamo conto dell'equilibrio prego prego Nico no ma io la società ora grandissime preoccupazioni hai un finale stagione che ti potrà regalare anche tanto anche tanto perché hai la portata dei trofei importanti in campionato vediamo comunque nelle rotazioni se riesce a stare lì agganciata anche se il divario c'è vediamo ma al di là di questo il progetto tecnico nella Fiorentina deve andare avanti nel senso perché al di là degli allenatori dei giocatori tutto qua cioè rimane Firenze rimane la struttura che hai creato rimane Viola Park ora ci sarà no aspetta ma poi c'è una ossatura di squadra e dei allenatori in giro guarda ce ne sono tanti bravi anche di giovani io guardo lo stesso Tiago Motta se non va dicono anche Tiago Motta Tiago Motta è un bel allenatore cioè Zanetti all'Empoli sta facendo bene Dionisi di allenatori se hai un progetto è importante identificare bene il progetto l'idea che hai anche dal punto di vista in base alla rosa che hai prendere un allenatore chiaramente che fa un calcio con principi diversi da come parlavamo Iachini senza criticarlo Iachini ha dei principi di gioco diversi per delle squadre con caratteristiche diverse quindi bisogna andare a cercare un profilo per il tipo di rosa e per il tipo di profilo oggi la Fiorentina al Franchi al tifoso della Fiorentina gli puoi far vedere le pallonate perché scendono ti vengono a prendere sotto e ti dicono sì perché ti piacciono la Fiorentina gode perché la Fiorentina gioca bene vuole godere perché va a combattere contro le favorite e vuole andare dando una lezione di calcio quindi ma poi si può anche perdere magari Massa l'ha sempre giocata da due anni a questa parte è quello che vuole la piazza di Firenze è poi abituata non bene negli anni è abituata benissimo cioè ci sono davanti c'è stato dei più grandi grandissimi giocatori stavo pensando all'affermazione di Massimo giusto per chiusare sui valori esatto proprio sui valori e l'incidenza sulla classifica con la classifica avete visto considerate la Fiorentina col pareggio che sta maturando del Torino in questo momento è nel suo cioè ha davanti solo squadre non so come la pensate rispetto all'Atalanta ma che hanno in partenza una rosa superiore poi ha pari punti col Bologna che forse ha qualcosa meno guardando la classifica c'è quello comunque ti è davanti comunque se guardi la classifica c'è quello che io ho detto inizialmente che dopo quelle squadre lì l'Atalanta è sopra l'anno scorso l'Atalanta l'hai avuta sotto perché l'Atalanta ha avuto l'anno che ha toppato e te Fiorentina il giorno d'andata avevi una squadra importantissima con due o tre giocatori chiaramente un paio che hai perso Blavovic e Torriera su tutti l'abbiamo analizzati se su quella classifica lì l'anno prossimo aggiungi come dicevamo prima 3-4 giocatori importanti e riesci a non sbagliarli e con l'Atalanta puoi incominciare a starci e addirittura ma con la Lazio e con la Roma qualcuno no poi qualcuna di quelle lì può avere l'annata come l'Atalanta l'anno scorso non tutti gli anni sono uguali per tutti come la Fiorentina ha avuto quest'anno va ricordata anche quello la seconda squadra la prima e seconda squadra che ha giocato più partite di tutti quindi eliminati agosto c'è da dire anche quello e la rosa comunque profonda al netto di tutto quello abbiamo detto alla fine è servita perché hai avuto anche degli infortuni il sottino non l'ha mai avuto hai preso Breccalo e in questo momento non ti serve perché Castrovilli mai e poi Nico González giorno d'andata non ce l'ha mai avuto Milenkovic ha iniziato rotto c'è stato il mondiale di Nico è andato via poi c'è stato il mondiale e tutto quanto adesso il vero valore è questo qui e se da quella classifica tu aggiungi riesci a fare un mercato intelligente come alla fine quest'anno i due o tre giocatori che si è andato a prendere si sono rivelati non come si pensava all'inizio penso che combattere la Champions noi non parlo di Champions un po' di più forse massimo questa è l'unica osa la Champions è un percorso un po' più lungo va detto per arrivare in Champions è un percorso più lungo ma sai io faccio sempre un'analisi ormai che sono i numeri è statistica una delle grandi stecca sempre durante un'annata una stagione sì sì una stagione Roma e Lazio voi le li vedete così più forti no però c'hanno 10 e 15 punti sì c'è 15 ma perché tanti 15 punti ma quante partite la Fiorentina ragazzi non sono d'accordo io le ho vinte perché gli attaccanti se avesse avuto un attaccante faceva anche la Lazio gioca con 12 uomini questo giocamento l'avevi perso anche sabato forse no sulla profondità della Rosa sono d'accordo con Massimo però gli unici centrali della Lazio vabbè c'è Casale no a mezzo al campo c'è Romagnoli però Milinkovic Isai sì ho capito sono d'accordo c'hanno immobile e quest'anno l'hanno mai avuto appunto Dico Zaccagni Filippe Anderson Pedro Milinkovic Savic Luis Alberto miglior difesa del campionato la Lazio è una squadra importante e per me è una cosa incomprensibile Sarri fantastico sono d'accordo ti piace quella squadra allora no Sarri certo mi piace ma quella squadra ha preso è perfetta per lui lo segue ha fatto un'intervista è una relazione sul futuro lui ieri dopo la vittoria sul Monza ha detto vorrei addirittura smettere la Lazio quindi pensa non so se riuscirà si è identificato molto nel popolo laziale sta facendo bene è chiaro che nella scelta della Conference League lì sono stati furbi però ha vinto il derby e quello e il derby ha dato quella spinta in più però giocano bene si poi ha battuto il Napoli però giocano bene però giocano bene sono messi bene in campo dell'incrocio degli ottavi state lì perché torniamo tra un attimo con il flash finale della nostra Casa Viola del lunedì e come promesso andiamo di nuovo stavolta negli spogliatoi di San Siro per capire le mosse di italiano fatte contro l'Inter e che cosa fare o non fare mercoledì contro la Cremonese di Ballardino Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni POS Mobile POS POS virtuali per e-commerce e per vendere sul web o a distanza anche senza e-commerce c'è Bayway Mail facile e sicuro basta una mail o un SMS fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino ti aspettiamo in filiale esplorare nuovi territori questa sono io il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini con Astra ho scelto una vita senza sprechi luce green da fonti rinnovabili il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi cambiamo insieme ehi Astra accendi la luce qui alla Carini costruiamo porte da garage vicine alle tue esigenze dai nostri tecnici avrai i giusti consigli dalle nostre officine le migliori tecnologie e i nostri montatori penseranno a tutto con la formula chiave in mano felici di essere in Toscana felici di raggiungervi tutti ovunque voi siate le nostre porte da garage belle, sicure e garantite 10 anni Carini stabilimenti e showroom a Monte San Sabino Arezzo Gran finale di Casa Viola del lunedì su Toscana TV tenendo un occhio a Sassuolo Torino 1-1 al gol di Pinamonti ha risposto Sanabria ma ovviamente è una settimana già pienissima per i viola reduci dal 1-0 sull'Inter che abbiamo analizzato dai suoi migliori in campo ma anche da un paio di situazioni che adesso fotograferemo aspettando già mercoledì la attesissima semifinale d'andata con la Cremonese un'occasione d'oro per andare in finale ricomincio allora dal nostro ministro Nicola Pozzi perché prima di venire alla questione di difesa 3 tu hai scelto questo movimento tra quelle diciamo chiave o comunque esemplificativi si può mettere anche di qua eccoci qua giustamente mostriamo a casa e allo studio quindi abbiamo attivato tutti gli schermi possibili prego Nicola questo è solo per evidenziare come è andato a prendere la Fiorentina l'Inter a San Siro che è la cosa che ha sempre fatto l'abbiamo già fatto vedere più di una volta quindi c'era Saponara tutti uomo contro uomo Iconè andava su Bastoni Cabral su Acerbi Saponara su Darmiani i tre centrocampisti Buonaventura si attaccava a Brozovic Mandragora e Castrovilli su Michi Tarane e Baleale dietro quindi si giocavano a duello cosa c'era? il terzino in questo caso o Biraghi se l'azione dell'Inter veniva a destra o Dodò se l'azione dell'Inter veniva a sinistra su Gog Goses faceva l'uscita alta andare a prendere il quinto della formazione dell'Inter e quindi si creava sempre due contro due Igor tante volte ha vinto il duello qualche volta l'ha perso uguale quarta sono più quelli che hanno vinto di quelli che hanno perso però quelli i duelli che hanno perso sono costati quelle 3-4-5 situazioni in questi casi qui ragazzi bisogna essere chiari quando perdi il duello si apre con queste squadre e rischi che si apra campo è quasi gol è quello che è successo nella partita di San Siro questa volta quel pizzico tanto di fortuna perché le situazioni sono state veramente tante e quindi ti agirava anche bene su queste situazioni e poi c'è il cambio epocale esatto allora l'altra che se vi ricordate ci sono le due azioni Bastoni che fa la sovrapposizione interna non viene seguito e Lukaku vabbè sbaglia il gol portavuota e poi c'è l'altra azione dove Lukaku va a duello proprio in questa situazione che abbiamo messo va al duello con Igor e poi tocca la palla per Danfris che arriva ai 2.000 all'ora arriva praticamente poi a un metro da Terracciano e gli usce al tiro dopo quello cosa succede corre a ripari c'è anche il palo di Barella che però il palo di Barella non lo possiamo considerare è un tiro cioè un gran tiro che poteva trovare il jolly cosa succede per la prima volta è un cambio che non aveva mai fatto italiano cosa fa leva i conè mette Ranieri passa non a 3 a 5 è stato un pochettino più basso meno duelli in avanti ha lasciato un pochettino giocare l'Inter che che per assurdo l'Inter è la squadra che io questo lo dico se dovessi eventualmente no anche incontrarla in finale Coppa Italia l'Inter è una squadra che la gente è anche a casa ormai siamo tutti malati di calcio guardiamo i dati sono tutti super preparati è la squadra che fa meno uno contro uno non salta all'uomo non hai giocatori che saltano all'uomo nel sistema di prima io non dico che bisogna stare bassi dico che nel sistema di prima sempre esasperato nei duelli hanno dei giocatori che ci sta che gli vada bene questa partita potevi prendere quattro gol se ti girava in Italia l'ho visto partire due volte non so come quindi io dico una via di mezzo a volte e quando stai vincendo come nella partita andata con l'Inter a volte quando vinci due a zero non andare a prendere e lasciare campo alle spalle dei duelli mettendoti lì difesa cinque il centrocampo ha ruotato a tre Sottil si è avvicinato 5-3-2 e cosa ha fatto l'Inter dal 76esimo in poi poco ha forza fisica viene dentro ma non ti salta dove c'è tanto spazio è la stessa cosa che è successa spesso va detto alla Fiorentina contro le squadre che l'hanno aspettato la fatica negli spazi stretti ecco l'Inter non ha questi giocatori quindi è un'analisi secondo me una riflessione che chiaramente non farà dal primo minuto però se ti ricapita con l'Inter se andavi avanti altri 20 minuti non avrebbero segnato invece l'Italiano questa volta per la prima volta della nostra carriera cambia si mette a 5 e vince la partita io penso che lì vince la partita perché penso che altre 2-3 situazioni le potevano creare se continuava l'inerzia di prima potevano arrivare prima vittoria tra l'altro a San Siro come ha raccontato lo stesso italiano che ho promesso di finire la pizza a tutti soprattutto l'anno scorso alla fine continuavano a giocare io dicevo smettete tenete la palla quante volte anche ora delle volte ci hanno ancora nell'ultimi minuti se guardate bene ci hanno sempre questa voglia tenete la palla date la buona avventura a quelli come c'era l'anno scorso Torreira quante volte Torreira la prendeva e se la teneva lì tu devi avere l'intelligenza e quando vinci 1-0 devi cercare poi prende anche il gol se ti va male ma te la fieni la si insegna da quando sa 11 anni ma noi con questo abbiamo analizzato ed evidenziato che oggi la partita di sabato Luca è la prima volta cambia cambia l'atteggiamento dire un quarto d'ora stanno arrivando tante volte certo certo fermiamo l'intelligenza passati due anni passati due anni ti dico è un cambio una svolta epocale che tante volte a volte dai un segnale si diceva mi metto a 5 e mi abbasso e rischi di farti assaltare e che non perdo la mia identità però è anche vero che contro l'inte che non ti salta l'uomo ti lascia un attimino giocare palla e questa situazione la potrai ritrovare io spero che la Fiorentina eventualmente adesso c'è la partita di martedì per arrivarci in finale Nicola giustamente bisogna prima battere la Cremonese anche l'Inter deve battere la Juve no no certo non è così banale esatto ma il dato che volevo commentare con voi è come affrontiamo allora sta partita di mercoledì vediamo come la Cremonese dovrebbe potrebbe affrontare la Fiorentina e poi disegniamo assieme alla luce del fatto che sarà un avversario completamente diverso da quello di San Siro per appunto scegliere quali uomini mandare in campo questa è la probabile formazione di Ballardini che ha fatto tra l'altro anche un mezzo turnover diciamo così tra il campionato e quello che ad oggi può essere sostanzialmente l'ultima chiamata per la stagione dei Grigio Rossi con anche qui un 3-5-2 che ormai usa abbastanza regolarmente ultimamente gioca quasi sempre Jadu insieme a The Serbs come possiamo vedere anche nell'altra schermata tra l'altro la Cremonese arriva con un po' di giocatori che tra l'altro visto che come sapete si gioca andata e ritorno sono tutti diffidati quindi tutti questi in caso di giallo salterebbero la partita di ritorno Massimo ricomincio da te facciamo assieme rimettiamo a Leo la grafica dal 5-3-2 e da qui la rimodifichiamo si tornerà sicuramente al 4-3-3 di partenza che cosa vogliamo cambiare come vogliamo affrontare la Cremonese Cabral partiamo da davanti Cabral non si discute anche perché Jovic non sta benissimo Cabral intoccabile Davanti Tridente Tridente Nico Nico va rimesso Nico va rimesso e lo modifichiamo in tempo reale e credo che anche Iconet abbia la grande chance di partire dal titolare quindi Iconet al posto di Sottil quindi diciamo è stata un po' la nota a San Siro si va detto anche il gol che ha sbagliato nel primo tempo sullo 0-0 e soprattutto il gol che poteva fare 2-0 per chiudere la partita è vero però da quella parte è un peccato per il ragazzo perché ha bisogno lui fa ancora tanta confusione ma sbagliate diversi fa ancora tanta confusione però da quella parte Valeri spinge molto dunque tenerlo un po' più basso potrebbe essere Valeri un giocatore della Cremonese ovviamente che a me personalmente piace a buona corsa è una buona squadra la Cremonese attenzione l'ultima volta l'ultima volta non giocò bene no però io l'ho commentato tante volte è un buon giocatore dico solamente mi fa più paura la Cremonese che non l'agpost non sei scettico su Castagnetti in che senso? come tenuta nel centrocampo centrale della Cremonese no ero scettico su Castagnetti quando la Cremonese giocava a 2 giocava a 3-4 3-4 2-1 con Alvini quando ha a 2 braccetti può forse reggere la Serie A dicevo invece la difficoltà di Castagnetti a giocare a 2 fa veramente fatica in un centrocampo a 3 sicuramente è un ruolo dove ci sta di più dovevano intervenire lì non hanno fatto mercato però comunque un centrocampista non eccezionale ma intelligente ordinato ha delle buone anche trame verticali e quando gioca nel centrocampo a 3 da play regge anche se per me in Serie A ci vuole altro allora veniamo al centrocampo Luca e poi Fabio Amrabat sicuramente perché poi è squalificato in campionato quindi non c'era a Mandragora sicuro al posto di Barac o Buonaventura Fabio vuoi correggere qualcosa? anche per te Mandragora al posto di Barac modifichiamo? Mandragora sicuramente io farei io proverei io con E per me lo farei riposare ma poi devi ruotare il centrocampo sì ora giustamente i puristi del schieramento vogliono anche cose tanto partiamo dagli uomini cosa ha detto? vanno anche messi giustamente nel lato giusto non è più 4-3-3 è un 4-2-3-1 4-2-3-1 quindi Buonaventura lo mettiamo un pochino più alto sulla linea con Iconè e Nico giusto? e Amrabat Mandragora va bene così? ora è lo schema che sta utilizzando la squadra non lo so se rigioca Buonaventura non lasciamo niente al caso non so se rigioca Buonaventura subito ecco il mio dubbio è questo ogni tre giorni Sabato c'è lo Spezia Castrovilli in quella posizione? Sabato alle due e mezzo c'è lo Spezia Castrovilli o Barak ovviamente ha diverse soluzioni per l'amore del cielo però o Barak che ha già fatto quel ruolo Buonaventura è lui il titolare però tante partite forse lo vuole preservare per la coppa secondo me Castrovilli che ha fatto secondo me una grandissima partita lo fa giocare con lo Spezia perché manca Amadabal mette Barak che si gioca con la Cremonese c'è bisogno di fare legna secondo me lo mette lì tre quarti dietro al posto di Buonaventura altro cambio in corso la difesa approvata la mozione di Giorgetti Barak tre quartista andato l'unico dubbio è la difesa se fa un turnover quindi a destra Dodò venuti non è toccabile nel mezzo Bilenkovic ha giocato part time a San Siro e quell'altro sta così e così quarta esatto quarta non sta benissimo quindi direi Bilenkovic e a sinistra Biraghi Terzic Terzic non ce la fa comunque aveva la lesione di primo grado sta tornando ma non lo rischia comunque Biraghi sta giocando bene ora no ma giusto per non finirli perché Nicola quando non lo senti nominare Cristiano direi che va tutto bene esatto appena fa mezza cosa viene ha fatto una bella intervista settimana dove ha detto so di essere ormai in controllo da parafulmine però a Milano è andato gli hanno fatto il cartone sarà sempre casa tua no lì perché lui è tifoso dell'Inter ed è cresciuto in curva dell'Inter e nel vivaglio ma l'ha nato all'Inter arriva no no lo so io quando ho commentato Inter due anni fa Inter Fiorentina gli hanno fatto cori per 20 minuti è amato perché comunque è nato in curva hai capito però l'anno all'Inter me lo ricordo fece bene parentesi con Conte parentesi dovevamo dirlo prima mi sono dimenticato da Dazzone i mille da Firenze sentivano tanto eh sì però mi sono dimenticato di dirlo quando avevamo messo nei migliori della partita anche i tifosi della Fiorentina vanno nominati cioè le cose perché io nella partita è vero che l'Inter aveva magari lo stadio perso un pochino di entusiasmo si sentivano tanto quindi un applauso l'ha fatto anche i tifosi Viola che a San Siro ci sono fatti sentire se li sentivamo noi alla televisione anche i ragazzi in campo hai fatto bene i terzanelli a San Siro anche i ragazzi in campo li hanno sentiti e questo è importante beh essere tifosi della Fiorentina anni sempre molto particolari no dunque questo momento di grande euforia di vittorie è fondamentale perché veramente ne hanno bisogno anche i tifosi no ora quando torni a casa mi raccontava sempre un tifoso mi ricordo tanti anni fa quando segnò Baggio a Milano con quella grande finta e mi disse il giorno dopo andai a lavorare contento cioè quella partita lì fu una sconfitta prima di Sacchi esatto esatto dopo il Fiorentina 2-4-2 credo livello di produttività negli uffici più alto registrato invece no invece quando c'è il derby a Roma chi perde si prende una settimana in malattia ma lì è un altro discorso signori non ci crederete ma siamo arrivati in fondo anche perché è finita anche Sassuolo Torino 1-1 con i gol di Pinamonti e Sanabria grazie infinite per essere stati con noi allora lavoro di Gabriele Calderoni in redazione Fabio Giorgetti Luca Frati grazie a tutti Nicola Pozzi Massimo Orlano Federico Salvi e il nostro Leonardo che hanno lavorato dietro le telecamere tutti voi che ci avete seguito vi aspettiamo mercoledì per commentare la semifinale di Coppa Italia da venerdì tutta la programmazione noi ci rivediamo lunedì prossimo con in mano proprio i verdetti di Sassuolo grazie a tutti